Ancora incerti i rapporti tra il Partito Socialista e l'amministrazione comunale a vasto a seguito delle richieste avanzate dal nuovo gruppo consigliare. Per il segretario del PD Antonio Del Casale c'è ancora spazio per il dialogo. Rispetto al Partito Socialista ho avuto modo di dire in questi giorni su questa vicenda, noi stiamo lavorando. Quindi è prematuro dire qualsiasi cosa anche in rispetto a quello che poi il Partito Socialista andrà ad analizzare nel proprio interno con il direttivo. In questi giorni loro si incontreranno per valutare. Io credo che bisogna sfruttare questo momento per confrontarci e soprattutto per ridare un nuovo slancio all'azione amministrativa. E sono convinto che ne usciremo sicuramente nel miglior modo possibile, cercando di tenere conto da un lato della giusta considerazione che il Partito Socialista merita. Dall'altro bisogna anche mantenere in equilibrio quelle che sono poi le scelte che gli elettori hanno fatto nelle ultime elezioni. Quindi credo che si troverà una giusta via di mezzo, ma ripeto, tutti quanti sono focalizzati su come rilanciare la parte amministrativa. Quindi non è una questione di posti, ma è una questione di come i partiti possono dare un contributo più ampio.